Eccoci arrivati, siamo a pochi passi dalla porta. Sicuri di non voler aspettare in macchina? No? Bene! Siamo a un passo dalla porta. Sto aprendo la porta. Accomodatevi, signori. Che buon profumo. Sì, buonissimo. Quante torte! Benvenuti da Dive Vegane. Qui le torte si ordinano... E si assaggiano. Io sono Kay e lei è mia sorella Aida. Lei è la vegana. E io sono la Diva. Grazie per averci ricevuti all'ultimo minuto. Sì, nessun problema. Capisco che ha sempre l'acqua alla gola. Io non sono mai puntuale. Owen, ci possiamo fidare? Dobbiamo essere puntuali, sì, ricordi? Sì, hanno ottime recensioni. Sta solo rompendo il ghiaccio.